Passo però a Angela Lea Iberi, che è il Presidente di l'Avante della Gerenza. Grazie a tutti voi presenti, sono amazionata per chiedermi qui, scusate se qualcosa non va bene, perché non è facile organizzare nella processione come tutti vogliamo, non è facile. Però non ce la mettiamo tutta. Io ringrazio naturalmente Andrea Del Buono e Giuliana Sorà, l'architetto Urrelli, che non si conosce, soltanto direttamente dalla campagna. Ma devo anche ringraziare Giannini, che mi ha detto che se qualcosa non va bene, perché non è facile organizzare nella processione come tutti vogliamo, non è facile. Però non ce la mettiamo tutta. Io ringrazio particolarmente Andrea Del Buono e Giuliana Sorà, l'architetto Urrelli, che non si conosce, sono venuti direttamente dalla campagna. Ma devo anche ringraziare Giannini, che mi ha ritardo a meglio con il bambino. Dovrete ringrazio anche Andrea Del Buono e Giuliana Saini, in modo particolare la nostra Presidente della Magna Trescia, Milena Perrata, che è sempre vicino che ha fatto la mostra, Fara Lucco, la nostra Vice Presidente della TINA, anche vicepresidente dell'Incidrat e dell'associazione che fanno parte e collaboriamo per l'Unione. Quindi porto i saluti direttamente dai Presidenti, da Pasquale Franceschetti, Cenacolo dell'Accademico della Poesia Europeo, da Verzerosa dell'Interfilia, per l'associazione della Campania, una silvanarchia di azioni internazionali di silvanarchia, si occupa dei bambini soldati che stanno a ricorre il 25esimo anno della guerra dell'Aquanda, del genocidio. Fuori un grande saluto anche dal Presidente del Cenacolo della Poesia, Vincenzo Gatto, che con uno dei problemi familiari non è venuto, ma io rappresento perché sono Vice Presidente ed ha già formato. Anche da Sultaneo, che fa parte dell'associazione Pedoni, ed ha Ugo De Angelis, che per anno 19. Quindi ringrazio tutti coloro che sono qui, poeti, risorse del territorio, e anche amici, perché lui è una mia amica carissima, anche la fama da Cantarelli, che è una mia amica lì fuori. Al di là di tutto quello che possono pressionare, eccetera. Io mi doverlo tanto bene e ho visitato questi alcantarmi. quindi l'amicizia per me è una cosa dell'accordo per l'Aquanda, perché l'Aquanda è vera, amicizia, punto e basta. Ognuno pensa come vuole. Ecco, allora che cosa devo dire? Che la prima cosa la devo ringraziare, ma anche per l'unica Presidente che mi ha racconto, e che ho fatto la domanda ai sindaci e a tutti, e c'è qui la nostra preside del secondo circolo di Brocofale di Maria Caravini. Devo ringraziare moltissimo l'archedetto Correlli, che è un caro amico di famiglia, che mi ha fatto conoscere tra il tuo nome di ricercatore, e che gli ha lavorato, che sono venuti per onorarci dalla Campania. Poi devo ringraziare anche l'Arteo Club di Sermonella, e il nostro caro amico Angelo Valerio, e poi porto i saluti anche di Giuseppe Caravini. Alla spiegazione di Roma.